India volato è lo spirito con cui il terreno dovrà scendere in campo allo stadio Bottecchia di Pordenone. Di fronte ci sarà la battistrada del Girone B con 65 punti, più 7 dalla coppia triestina-Feralpi-Salò a 4 turni dal termine, come dire ad un passo dalla Serie B. La squadra di Tesserra in striscia positiva dà ben 11 turni, 4 vittorie e 7 segni X. L'ultimo stop risale al K.O. Casalingo del 26 gennaio, 2-1 per il Rimini. Particolare curioso la capolista in campionato ha perso soltanto tre volte e sempre davanti al pubblico amico. Il Teramo arriva al confronto con una certa serenità. Il pareggio con il Vicenza ha dato una mini continuità dei risultati. La zona rischio è a 4 punti, ma è chiaro che allungare il trend a Pordenone varrebbe tantissimo in chiave salvezza. E qui entra in ballo la tensione. Domani ci vorrà quella giusta. Mister Maurizzi ha preparato con cura la gara. L'unico dubbio riguarda l'impiego di De Grazia o Sparacello alle spalle di Infantino. Dalla lista dei convocati mancano lo squalificato Spighi e Persia che lamenta un leggero stato influenzale. Due gli appiedati in casa Pordenone, Berrettoni e Bombaggi. I probabili 11 che scenderanno in campo. Teramo con il consueto 3-5-2. Pacini in porta, Fiordaliso, Caidi e Polac a presidio. Ventola, Spinozzi, Proietti, Armeno e Cegli a centrocampo. In avanti Sparacello e Infantino. 4-3-1-2 il sistema di gioco del Pordenone. Bindi tra i pali. In difesa, Semenzato, Barison, Bassoli e De Agostini. In mezzo, Zammarini, Burrai e Misuraca. Ciurria alle spalle del tandem Candelloni-Magnaghi. All'andata al Bonolis finì 2-0 per il Pordenone.